Buonasera, benvenuti qui a questo dibattito, conoscete probabilmente già i nostri ospiti, sicuramente il ministro Dario Franceschini dei beni culturali, Lorenza Bonaccorsi è responsabile cultura e turismo del PD, Cristian Greco è il direttore del Museo Egizio di Torino, se non conoscete lui ancora sicuramente conoscete il museo. I temi non mancano ovviamente, forse dovrebbe durare ore, io vorrei partire con il ministro Franceschini dalla notizia un po' di quest'estate, anche se come cronaca è già stata superata, però il ministro ha nominato 20 nuovi direttori, qui ha dato un avvicendamento forte ai principali musei italiani, gli uffizi, qui la Pinacoteca di Brera, insomma Galleria Borghese. Come spesso succede in Italia, le nomine sono state accompagnate da varie polemiche, c'è chi ha detto che sono stati sfiduciati i funzionari del ministero perché non sono stati premiati loro, ma soprattutto la famosa polemica sull'italianità perché su 20 direttori 7 erano stranieri, anche qui a Brera c'è l'inglese Bradburn. Il ministro ha già risposto con un tweet che secondo me è molto significativo, tra le altre cose, dicendo abbiamo nominato 20 europei e nessuno straniero. Quindi io più che tornare sulle polemiche chiederei a Franceschini un pochino cosa c'è oltre ai direttori manager, cioè perché questi direttori, Franceschini ha distinto tra la tutela e la valorizzazione del nostro territorio, dicendo noi italiani siamo bravissimi nella tutela con le soprintendenze, molto meno nella valorizzazione. Quindi qual è la filosofia della riforma che il ministero vuole fare, come questi manager aggiranno e come si fa a fare sistema, che forse è un po' la cosa che manca in Italia. Grazie, grazie a voi di essere qua. La nomina dei 20 direttori ha suscitato un grande dibattito anche perché la notizia è stata resa nota, perché le procedure si sono completate il 17-18 agosto, non mi ricordo che giorno era, e quindi diciamo un momento di grandi spazi sui giornali è stato molto utile perché hanno discusso su questo tema, è giusto o non è giusto, anche persone che normalmente non si occupano di cultura o che non avevano affrontato comunque in una loro riflessione questo tema stranieri italiani, io ho fatto quel tweet perché è veramente paradossale che parliamo d'Europa con regole comunitarie anche sui concorsi pubblici, poi salti fuori il tema degli stranieri, ma insomma è una parte di quella polemica. Ma quella nomine sono state la parte finale di una riforma che è cominciata un anno fa con la riforma del ministero, con una norma di legge nel Decreto del Bonus nell'estate dell'anno scorso, poi le procedure sono andate avanti sino a nominare questi 20 direttori dei 20 più grandi musei italiani che sono soltanto un pezzo della riforma. Molto brevemente, non ho bisogno di dire quanto l'Italia può investire sul turismo culturale, quante sono le risorse incredibili che ha in termini di patrimonio, di bellezza, di storia, quanto è importante che il turismo si diffonda e il turismo culturale in particolare su tutto il territorio nazionale. Non possiamo vivere il paradosso di avere i centri storici di Venezia, Firenze e Roma che hanno il problema del sovraffollamento, una parte di quei centri storici, perché tutti vogliono vedere, è comprensibile nella loro vita, vogliono vedere il ponte di Rialto o gli Uffizi o il Colosseo o la Fontana di Trevi, abbiamo bellezze dappertutto nel resto d'Italia e non c'è la capacità di richiamare turismo. Siamo a Milano, Milano ha riscoperto una vocazione culturale molto forte, la capacità di attrazione turistica legata al turismo culturale. Torino, a pochi chilometri di qua, è una città, non sa bene il direttore greco, è una città che sembrava condannata a un declino post-industriale, ha saputo riscoprire la propria vocazione, legare al turismo culturale e sta portando a grandi numeri. Milano, io continuo a dirlo, per Expo, ma non solo per Expo, perché qui ci sono stati investimenti privati nel settore della cultura, penso alla Fondazione Prada, la Fondazione Feltrinelli, Armani, quindi si sono fatti importanti investimenti pubblici, il Comune ha investito su questo. Milano sarà sicuramente una delle capitali, se non la capitale europea dei prossimi anni, che avrà una grande capacità di attrazione. Quindi l'Italia dovrebbe aver investito molto su questo. In queste enormi potenzialità il trattamento del nostro sistema museale dello Stato è stato una gestione, non è colpa di chi ha gestito, quindi non c'è nessuna volontà penalizzatrice, è colpa delle regole, colpa del fatto che la politica non ha saputo investire su questo. Ma siamo arrivati con un sistema totalmente arretrato. Per darvi un quadro, i musei e i luoghi della cultura dello Stato sono 420, sono circa un decimo, un po' meno, dei musei e luoghi della cultura complessivamente, perché gli altri sono dei comuni, delle regioni, dei privati, della Chiesa, quindi circa un decimo sono quelli dello Stato. Sui 420 musei 4 hanno un ristorante, l'85% non ha nemmeno un bookshop. Oggi un visitatore che va in un museo, chiunque di voi giri il mondo, ci sarà capitato, andare in un museo oggi non è vedere come un secolo fa delle vetrine o qualche opera esposta, ma vuole, è come vivere un'esperienza. Entri in un museo, in un grande museo, ci passi la giornata, deve essere accompagnato da multimedialità, da spiegazioni, devono esserci laboratori datici per i bambini, deve esserci una caffetteria o un ristorante che ti fa prodotti di qualità legate all'identità di quel territorio, devi vivere un'esperienza, devi avere i luoghi in cui leggere, in cui fermarti. Tutto questo nei musei italiani non c'è stato. E non è, ripeto, colpa di chi li ha guidati, ma colpa del sistema che non ha investito in questo. Eppure sono una potenzialità straordinaria. Allora noi abbiamo fatto un'operazione che parte da quella divisione di tutela da valorizzazione, i musei italiani, anche i grandi musei, anche Brera, anche gli uffizi, anche Capodimonte, fino a un anno fa non esistevano nemmeno giuridicamente, erano uffizi diretti da un funzionario, quindi nemmeno da un dirigente, agli ordini del soprintendente, senza un bilancio, senza uno statuto, senza un budget, senza nessuna autonomia. Noi abbiamo pensato di fare questa operazione, difendere il grande ruolo che l'Italia ha acquisito, esperienza, legislazione in materia di tutela, ma dividere le soprintendenze dei musei. Le soprintendenze oggi si occupano e si occuperanno solo di territorio, di tutela del territorio. I musei hanno una nuova direzione generale dei musei, come in Francia, dei poli museali regionali e eventi di questi musei più grandi, o meglio quelli che hanno più potenzialità, perché ci sono musei che fanno grandi numeri, come gli uffizi, che sono al massimo della loro capienza, perché c'è il numero chiuso, ci sono musei come, perci appunto ho citato Capodimonte a Napoli, ma come Brera a Milano, che hanno dell'enorme potenzialità di crescita anche in termini di numero di visitatori, di allargamento degli spazi, di esposizioni di opere che sono ai depositi. Quindi abbiamo detto facciamo un investimento sulla valorizzazione e sul rafforzamento del sistema museale. Quindi i musei oggi hanno un percorso a parte, ogni museo anche oltre a questi eventi avrà un budget, avrà uno statuto, avrà una margine di autonomia che è molto più forte in questi eventi. In questo percorso che abbiamo scritto e approvato in Parlamento e nei decreti ministeriali un anno fa, l'atto, mi viene da dire, è quasi finale, pure quello che ha fatto notizia, appunto che se lo scopre un cittadino è normale, se lo scopre un storico dell'arte o uno che scrive normalmente di cultura, mi domando dov'era un anno fa. Abbiamo immaginato che a guidare i musei più grandi non si facesse con le procedure normali, ma si facesse con una selezione internazionale. Abbiamo pubblicato un avviso sull'Economist e quindi se abbiamo pubblicato l'avviso sull'Economist si doveva immaginare che partecipava anche qualche straniero. Hanno partecipato 1200 persone, una commissione guidata dal presidente della Biennale con dentro il direttore della National Gallery di Londra e il direttore dell'Archeologico di Berlino, quindi una commissione di grande qualità, ha selezionato i curriculum e ha selezionato 100, non mi ricordo, 105 persone con i quali ha fatto, non era obbligatorio fare un colloquio, ha pensato che oltre che il curriculum che è l'elemento fondamentale, gran parte delle selezioni oggi ci fanno solo sul curriculum, fosse utile un colloquio, anche qui ho letto delle sciocchezze, dice solo un quarto d'ora, ma non è che se chiami uno che è direttore in un museo in Australia o in Germania, uno storico dell'arte ha così di pubblicazioni, gli chiedi chi è giotto, gli dici esponimi il progetto che hai per il museo e quindi non è stato un esame, sono venuti a raccontare se io divento direttore del museo o in mente questo progetto. Alla fine sono stati selezionati dell'Eterne, all'interno dell'Eterne il direttore generale dei musei e il sottoscritto abbiamo scelto quelli che secondo noi erano più adatti a quel museo, quindi dentro per fortuna una scelta di grande professionalità. I numeri io li ho scoperti dai giornali, nel senso il fatto che sette non fossero italiani, che quattro tornavano da fuori Italia e che sono tornati in Italia, che erano metà donne e metà uomini, qualcuno mi ha detto assurdo la parità di quote anche nei musei, li ho scoperti il giorno dopo perché sommando insomma sono usciti questi numeri assolutamente positivi, che vengano persone che hanno diretto musei o italiani o stranieri in altre zone d'Italia o del mondo e che portano la loro esperienza in questo progetto di grande valorizzazione, io credo sia un fatto assolutamente positivo e le polemiche veramente tutte molto provinciali o per avere un po' di spazio sul giornale. Mi sembra che il Ministro è stato chiaro. Io vorrei sentire l'opinione su questo di Cristian Greco che prima appunto di venire a Torino, lui è italiano, ma... selezionato, lo dico io, da una procedura... Mi ruba la domanda. Ah no, no, finito, scusa. Che prima di venire a Torino non solo ha lavorato in America e nei Paesi Bassi, quindi è stato, diciamo, studioso italiano e straniero in un altro paese, ma poi per tornare a Torino ha superato, ha partecipato a un bando internazionale superando una selezione con un certo numero di concorrenti appunto di altri Paesi. Quindi io le chiederei... Abbiamo potuto anticipare questa procedura perché a Torino è una fondazione, quindi è mista pubblico-privato, quindi abbiamo potuto fare la selezione internazionale, mentre nei musei dello Stato, sino all'approvazione della riforma dell'anno scorso, non si poteva fare questa selezione internazionale, ma si doveva semplicemente prendere un funzionario interno al Ministero con uno stipendio da funzionario e quindi uno stipendio, in modo che il nostro direttore degli uffizi, quando si trovava di fronte al direttore della National Gallery, si trovava di fronte uno al livello massimo della pubblica amministrazione inglese con autonomia contabile e lui era un funzionario dell'ordine soprintendente. Quindi per poter fare quello che hanno fatto al Museo Egisti abbiamo dovuto cambiare la legge. Quindi questo ci dica anche se condivide quello che ha detto il Ministro sulla differenza tra i musei, la valorizzazione dei musei italiani, insomma in Olanda, a Amsterdam c'è il Museo di Van Gogh, il Rax Museum, insomma come sono rispetto a quelli italiani? Allora, cominciamo dicendo che quanto ha detto lei e le polemiche ci sono state le ho trovato molto provinciali. Nessuno mai in Olanda, quando io sono diventato curatore del Museo Nazionale di Leiden, quando con me concorrevano 20 olandesi, io ero l'unico straniero e ho vinto il posto, nessuno mai ha detto che ero l'italiano che aveva preso questo posto, per cui poi all'interno della comunità europea e soprattutto la ricerca dovrebbe essere internazionale. Anzi, a me ha dato molto fastidio quando sono tornato in Italia e hanno continuato a dirmi che era il cervello di rientro, perché io ho subito detto, mentre una volta da Leiden partivo, avevo l'aeroporto di Schiphol e andavo in tutto il mondo, adesso parto da Torino, ma non è che la ricerca si fermi a Torino, da lì è un luogo propulsore per cui la ricerca è internazionale per sua natura. Io collegandomi a quello che diceva il Ministro, avendo seguito molto la legge ed essendo molto contento che le cose stiano cambiando, noto solo un aspetto che secondo me non è stato finora molto o sufficientemente posto all'attenzione, che è l'aspetto della ricerca. La ricerca secondo me è in primis, la ricerca è alla base sia della valorizzazione sia della tutela, lo sto notando su quello che sto facendo io adesso a Torino. Abbiamo aperto il museo, abbiamo speso 50 milioni di euro, stiamo raggiungendo e spero di farlo entro pochi giorni i 500 mila visitatori dal primo aprile, che per una città come Torino, che non è una città turistica, per un museo comunque possiamo anche dire di nicchia, insomma la civiltà egizia non appartiene al nostro DNA, anche se io sto cercando di far capire come l'Egitto faccia parte di una ricezione dell'Egitto stesso che deve essere comunicato, però quello che voglio fare adesso e mi sono posto un orizzonte decennale è ricostruire il museo. Molto spesso a me viene detto voi siete il secondo museo al mondo, io li correggo subito, dico siamo la seconda collezione al mondo. Per essere il secondo museo al mondo significa sedere nei consensi internazionali, avere il ricercatore internazionale. Sto facendo partire con il ministro egiziano che vedrò settimana prossima a Monaco, finalmente un progetto di fellowships. Quando ho parlato con Neil Spencer, che è il keeper della sezione egizia al British Museum, mi ha detto che lui ha curatori da 92 paesi e questo portano una ricchezza, uno scambio, che purtroppo molto spesso, e parlo del museo egizio, non c'è. Quindi io mi sono posto un orizzonte decennale per costruire dalle fondamenta il museo, ponendo la ricerca al centro, che poi de facto, se non de jure, sta facendo superare quella dicotomia soprintendenza museo. Ci sono quattro soprintendenti egittologi presso la soprintendenza che io adesso voglio coinvolgere nel museo, non tanto e non solo per la tutela, ma per far ricerca, perché se non si fa ricerca non si può sapere come intervenire a livello di restauro, non si può sapere poi come valorizzare il proprio patrimonio. Quindi secondo me la ricerca deve essere posta assolutamente al centro e qui forse ci sono degli aspetti della riforma che potrebbero essere implementati. Penso, non so, a Villa Adriana il fatto che distinguere lo scavo fra soprintendenza e chi lo deve valorizzare forse bisogna trovare delle forme di collaborazione forti perché assieme poi si possa, e questo fra persone intelligenti mi sembra che sia la polistiana a trovarlo. C'è un aspetto invece in cui io sono un po' critico sulla riforma che è l'aspetto temporale. Per cambiare un museo, io dico quello che mi è stato detto in Olanda, mi hanno detto nei primi tre anni imparerai, forse capirai dove sei, poi avrai due anni per cominciare ad implementare e poi ti giudicheremo sui cinque anni in quello che facciamo. Se il museo egizio, io parlo del museo egizio perché è l'unico museo che davvero conosco, tutti i colleghi, c'è stato appena il congresso internazionale di egittologia a Firenze, colleghi che mi dicono finalmente si torna a parlare di museo egizio, dopo decenni di chiusura finalmente possiamo tornare a far ricerca, ma i risultati di quello che voglio fare adesso si vedranno fra dieci anni, li devo implementare adesso, far partare del fellowship. Io vorrei, me lo pongo come obiettivo, che fra dieci anni ci siano perlomeno 20 egiziani che in continuazione vengono a lavorare da noi, ci sia un processo di identificazione culturale, sto facendo tradurre il catalogo in arabo perché venga diffuso in Egitto e possa permettere una quasi appropriazione di identificazione culturale, però l'orizzonte temporale secondo me deve essere più ampio di quello che adesso è stato dato, come forse viene fatto nei paesi stranieri, come viene fatto in Olanda, si viene messi alla prova per un anno o per due, nella quale si può essere licenziati, poi si dà una tenure. Tenure però non significa ti do carta bianca, sarai direttore per tutta la vita, significa semplicemente ti giudico su quello che fai con dei criteri seri, se funzioni vai avanti, se non funzioni te ne vai e secondo me questa è una cosa che dovrebbe essere implementata. Questo è sicuramente un punto interessante, cioè il termine di durata, comunque quanto ci mette un direttore a gestire un sistema museo, insomma se Franceschini vuole dire su questo, rispondere volentieri. Io volevo fare comunque una domanda a tutti e due, al Ministro per quanto riguarda il Governo e a Lorenza Bonaccorsi sulla posizione del PD su due punti fondamentali, che sono questi. Noi che l'Italia abbia un eccellente patrimonio artistico e anche naturale, è una banalità, la metafora più abusata è che il turismo è il nostro petrolio. Poi però finiamo spesso sui medi, anche stranieri, per delle scivolate, magari piccole, che però fanno notizia. Io penso così solo alle ultime cose, penso all'assemblea sindacale che quest'estate ha tenuto chiusa Pompei con i turisti in coda sotto il sole, penso al Maxi di Roma che si è chiuso per un piccolo allagamento, però non sono stati avvertiti i visitatori e c'era un cartello in inglese maccheronico. E penso anche alla rappresentazione, alla scala che ha rischiato di saltare perché era l'inaugurazione dell'Expo, però era il primo maggio che era festa del lavoro e ci sono stati dei problemi con i sindacati. Quindi chiedo, diciamo, PD e governo su due punti. Uno è il personale, il personale del sistema del nostro patrimonio artistico. È poco, non è adeguato, cioè non è capace di svolgere i compiti che dovrebbe svolgere, oppure è mal pagato, pagato in arretrato, pagato senza straordinari e quindi ha delle ragioni di essere demotivato. E due, il nodo sindacati, nel senso che su questo voi siete più preparati di me, ma di rimbalzo quello che arriva dai giornali è che magari a bloccare un sito archeologico o un museo è un'assemblea di sette persone o è una piccola sigla sindacale che magari viene addirittura disconosciuta dalla CGL nazionale, però ormai il danno è fatto. A volte si parla addirittura di introdurre la precettazione nei beni culturali come per i servizi pubblici essenziali. Ecco, è troppo, è sbagliato, servirebbe. Chi vuole cominciare? Sì, grazie. Dunque, io partirei un po' per rispondere alla domanda dal ragionamento che abbiamo fatto fino adesso, che è un po' lo stesso filo conduttore che ci lega. Noi stiamo scommettendo, abbiamo scommesso e continueremo a scommettere su questo principio fondamentale che è un po' poi il titolo da cui portiamo, cioè cultura e turismo motori dello sviluppo. Allora, tenendo bene in mente questo come principio del ragionamento, credo che tutto quello, e guardate che davvero, quello che dicevi tu è vero, cioè spesso e volentieri poi è molto difficile che i risultati delle riforme che si fanno, soprattutto in un campo come quello dell'intervento sul principio che in Italia è un po' stato sacro, vogliamo chiamarlo così, cioè quello un po' della tutela e della valorizzazione. Nel nostro Paese noi abbiamo sempre avuto questa diarchia, questo scontro, se vogliamo anche molto ideologico, tra tutela e valorizzazione, che invece con l'azione fondamentale davvero delle riforme del Ministro Franceschini in questo momento si sta provando a dare una risposta diversa, cioè superare la contrapposizione tra chi dice la tutela non si tocca, noi siamo il Paese da cui tutti vengono a imparare su come si tutela il patrimonio artistico, culturale e ambientale. Abbiamo una tradizione giuridica che risale al diritto romano di principio di tutela del patrimonio artistico e per questo poi esportiamo i nostri esperti in tutto il mondo. Dobbiamo imparare un po' di più sulla valorizzazione e questo lo si sta facendo e proprio in questo però dobbiamo anche superare questo scontro, se volete, tra due appunto opposti atteggiamenti. Allora una nuova cultura, usiamo questa parola, di come riuscire a superare la contrapposizione tra tutela e valorizzazione. Ed è un po' il discorso che dobbiamo fare estendendolo a chi poi nelle istituzioni culturali, museali, ci lavora. Abbiamo un sistema che è fermo, fermo da un po' di anni, è fermo da un po' di anni come sono fermi tanti settori italiani. Noi stiamo facendo un grande lavoro, ad esempio, sulla pubblica amministrazione, di riforma della pubblica amministrazione, di riforma del mercato del lavoro. Tutto questo va messo insieme e va inserito insieme alla riforma che si sta facendo rispetto all'organizzazione del Ministero dei Beni Culturali. Tutte queste cose insieme devono portare a un sistema nostro, museale e culturale, sicuramente, se vogliamo, più flessibile. Perché? Perché poi ci troviamo di fronte alle scene come quelle di Pompei che certo non fanno bene all'Italia, perché sono quelle che finiscono sulle pagine di tutti i giornali del mondo, sono quelle che poi ci fanno dire che siamo un paese fermo, che siamo un paese che non è capace di fare le riforme fino in fondo. Ecco, quindi, da questo punto di vista, il lavoro riformatore è a 360 gradi e a maggior ragione in tutto quello che è il sistema culturale del nostro paese deve avere uno sforzo maggiore. Uno sforzo maggiore perché abbiamo di fatto, e lo ripetiamo sempre, il più grande patrimonio artistico e culturale nel nostro paese. Se davvero ci fermiamo adesso sarebbe un peccato. Perdiamo quella spinta e quello sforzo che si sta facendo veramente, veramente importante e fondamentale che non si vedeva da anni e perdiamo tempo prezioso per tutto il settore. Si ha già detto Lorenza che siamo in un percorso di cambiamento, di investimento su questo settore come davvero elemento trainante della possibilità di creare posti di lavoro, di creare crescita, di puntare a un modello di turismo sostenibile, intelligente, che avendo di fronte a noi la straordinaria possibilità di fare insieme due cose, tutelare il nostro patrimonio, come ci impone la Costituzione, con l'articolo 9, articolo di cui dovremmo essere molto orgogliosi perché siamo l'unico paese al mondo che ha il principio della tutela del patrimonio storico e artistico e della promozione della cultura tra i principi fondamentali della Carta Costituzionale. Quindi possiamo insieme adempiere a questo dovere costituzionale e contemporaneamente investendo in tutela, in valorizzazione, fare diventare anche la cultura, sia la cultura nel senso del patrimonio materiale e immateriale del passato, ma anche la cultura come industrie culturali e creative, nuovi talenti, contemporaneità, un grande motore di crescita e di sviluppo. Perché perdere quest'occasione? Si sono persi tanti anni, troppi anni, misura diversa perché siamo arrivati anche al punto apicale della frase di Tremonti con la cultura non si mangia, l'anno in cui il bilancio del mio ministero fu dimezzato di colpo. Abbiamo interrotto quella stagione di tagli, finalmente, con una scelta nel tempo del governo Letta, adesso abbiamo cominciato a mettere risorse in più, pure in una stagione di tagli alla spesa importanti e di esigenza di rispettare i parametri europei. Quindi c'è la consapevolezza, del resto il Presidente del Consiglio, è stato sindaco di Firenze e quindi sa perfettamente le potenzialità enormi che ci sono se si investe bene, in modo intelligente nel settore della cultura, anche come contributo alla crescita economica. Dentro il mio ministero io ho trovato molte resistenze, non è soltanto quelle che si sono viste sulla nomina dei direttori, ma è una certa idea che la rappresentanza sindacale sia semplicemente tutela di chi c'è già. Gli episodi di Pompei, che purtroppo fanno male al sindacato prima di tutto, fanno male i diritti dei lavoratori, perché quando tu, sono state due sigle, non le altre sigle che sono dissociate, ma quando due sigle ti fanno un'assemblea sindacale di domenica mattina, lasciando in fila volutamente i turisti che sono venuti con prenotazioni o comunque sono venuti da tutto il mondo, fanno un danno con quella scelta non soltanto al Paese, ma fanno un danno anche al sindacato. Infatti in corso molti sono dissociati, hanno revoche di incarichi, oltretutto per una protesta che è davvero strana da capire, perché il tema, so anch'io che rispetto al passato c'è poco personale, ma il mio ministero come gli altri è soggetto alle regole generali della pubblica amministrazione. Adesso abbiamo una norma nuova, giusta, che prevede che prima di fare nuove assunzioni dovremmo assorbire il personale delle province, se abbiamo voluto a furor di popolo e anche sopprimere le province, è chiaro che i servizi delle province e il personale deve essere assorbito, quindi ci sono delle regole generali della pubblica amministrazione che derivano dalla spending review che impediscono di fare nuove assunzioni e quindi io sto cercando di utilizzare dentro questo schema un criterio di ridistribuzione, ma poi se vuoi spostare una persona da un museo che ha molto flusso e ha esigenze di orario prolungato ad un museo che invece non ne ha bisogno, non è mica semplice il nostro paese, anche se lo spostamento è di qualche centinaio di metri o di qualche chilometro. Noi abbiamo, lo dico perché è giusto saperlo, siamo l'unico paese al mondo che ha, lo dico al direttore greco così si preoccupa, che ha un parametro introdotto 30 anni fa, unico per tutti i musei dello Stato nel rapporto tra sale e custodi, che una volta quando si poteva assumere, che non c'erano i tetti, i vincoli, la spending review, ti portava a fare nuove assunzioni perché tu dovevi avere un custode ogni due sale, indipendentemente che il tuo museo avesse le sale sistemate in un stesso modo, che avesse un certo tipo di opere che richiedono il custode lì o invece un altro tipo di opere che non richiedono un custode ogni sala, quel parametro ce lo siamo portato dietro nel tempo, per cui quando voi andate in un museo e trovate una sala chiusa è perché la direzione del museo non riesce a rispettare quel parametro e deve chiudere le sale, nel frattempo come dire qualcosa è successo, ci sono nuove tecnologie, ci sono le telecamere, ci sono sistemi di sicurezza e quindi io sto, anche questa è una cosa che modificherò nelle prossime settimane, so già che avrò molte reazioni, ma insomma l'affidamento, la scelta di questo parametro verrà affidata al singolo museo o al singolo polo museale, perché un conte come sono fatte le sale, un conte cose esponi, purché siano mantenute le condizioni di sicurezza lo fai sulla base di un parametro oggettivo riferito a quel museo, non un parametro nazionale unico che non ha in nessun paese al mondo e naturalmente questo cosa comporterà? Cambiamenti di numeri di personale dentro quel museo, spostamenti da l'uno all'altro, noi abbiamo un altro sistema che prevede che i musei dello Stato, è una cosa positiva, tutti i musei hanno lo stesso orario di apertura, 11 ore, che è una cosa positiva perché è un'apertura più lunga di grandi musei, sono andati in un paese, è normale che il museo chiude alle 5, da noi chiude alle 19, allora io mi permetto di dire, questo ne parleremo, ci confronteremo con i sindacati, ma un conte a tenere aperto fino alle 19, magari fino alle 20, un museo che ha la fila o che ha il numero chiuso e quindi allungare l'orario consente di avere più visitatori, un conte è il museo che fa 3 visitatori al giorno, perché lo tengo aperto 11 ore se mi fa 4 visitatori al giorno, sempre perché c'è una regola nazionale di 20 anni fa, quindi insomma i cambiamenti comportano resistenze, se c'è consenso generale non sono veri cambiamenti, se ci sono resistenze sono la prova che si sta cercando di fare un cambiamento. Devo dire il parametro dei custodi non lo conoscevo, adesso ho imparato qualcosa, comunque soldi, mi sembra che i soldi mancano dappertutto, emerge che manchino anche dalla nostra discussione, soldi, risorse, investimenti. Esiste da qualche anno l'art bonus, c'è un meccanismo, non so quanti ne siano a conoscenza, per cui le aziende che fanno donazioni per il restauro, per l'arte, hanno un tax credit, cioè una detrazione di imposta mi pare del 65%, quindi volevo chiedere al Ministro se sta funzionando questo meccanismo relativamente nuovo e se pensate di confermarlo nella legge di stabilità, di renderlo strutturale. Dunque si parto da quest'ultima cosa, l'art bonus è un incentivo fiscale che vale, come hai ricordato, per interventi sul patrimonio, cioè un privato che dona una somma per intervenire sul patrimonio pubblico, oppure per i musei, oppure per le fondazioni liricosinfoniche, in quel caso non obbligatoriamente per il patrimonio, ma può essere un contributo anche all'attività, musei e fondazioni liricosinfoniche. Non a tetto, vale per un euro, vale per dieci milioni di euro, vale per le imprese e per i privati. In Italia non c'è mai stato un incentivo di questo tipo, tant'è vero che nel dibattito delle grandi imprese, in particolare è sempre stato detto, se avessimo un incentivo fiscale forte faremmo cose straordinarie per la cultura. L'ho detto altre volte, lo ripeto oggi, l'art bonus sta funzionando, sta funzionando perché i comuni, qui c'è l'assessore del corno, si sono attivati, perché vale sul patrimonio pubblico, quindi sta funzionando, donazioni piccole, medio piccole, medio grandi. Le grandi imprese italiane, che hanno sempre detto dateci un incentivo fiscale, faremo meraviglie, ad eccezione di Unicredit, dico nome e cognome, che ha fatto un intervento di 14 milioni sull'arena di Verona, io non ho neanche Lorenza la fila di persone che dicono, grandi imprese, voglio legare il mio nome a un grande museo, a un grande teatro, a un grande restauro, e quindi insomma, pian pianino cominceremo a dire chi ha fatto e chi non ha fatto in modo del tutto trasparente, con un sito, con i nomi delle aziende che hanno donato, quelli quanto hanno donato, dove hanno donato, anche perché la legge impone questo criterio di trasparenza, che il sito è già attivo, andate a vedere, artbonus.gov. L'importanza di questa cosa è l'aspetto fiscale, l'aiuto fiscale, perché nei paesi dove c'è una grande tradizione di mecenatismo è stata quella tradizione fatta crescere con aiuti fiscali, penso gli Stati Uniti, ma l'aspetto più importante è l'aspetto pedagogico, cioè bisogna che noi siamo consapevoli che la vastità del nostro patrimonio culturale, monumentale, museale, archeologico, è tale che per quanto lo Stato metta risorse, non basteranno mai, e quindi è naturale che come in tutti i paesi moderni, le risorse per il mantenimento di quel patrimonio siano risorse pubbliche e private che si integrano, non saranno mai risorse private che sostituiscono quelle pubbliche, ma che si integrano. E in Italia non c'è per nulla questa tradizione, allora perché dico l'aspetto pedagogico, quello più importante? Primo perché io vorrei che nella valutazione dell'impatto sociale del bilancio di un'impresa, grande, medio, piccola, ci fosse anche, non soltanto l'aspetto ambientale, che è positivo che ci sia, ma ci fosse anche quanto ha fatto quell'impresa per il patrimonio culturale della propria città, del proprio territorio, del proprio paese. Fosse un elemento di valutazione, una cosa da mettersi un fiore all'occhiello, una medaglia da puntarci al petto, io ho fatto per il patrimonio dell'umanità, perché secondo l'UNESCO il patrimonio è patrimonio dell'umanità, quindi noi siamo tutti stati, regioni, fondazioni, proprietari giuridici, spesso per caso, per i percorsi della storia, ma è patrimonio dell'umanità, è giusto che tutti contribuiscano, quindi pubblico e privato. E soprattutto pedagogico per il cosiddetto crowdfunding, cioè la raccolta di piccole donazioni tra i cittadini. Ci sono le esperienze dei musei americani, quando si dice privati, anche il miglior museo americano, privato, gestito da privati nel modo più manageriale possibile, ma vive 25-30% gli incassi di biglietti rispetto al bilancio o di proventi del bookshop o dei servizi aggiuntivi. Il resto sono donazioni privati, che possono essere grandi imprese o cittadini, per esempio gli amici di Verera, che donano un contributo perché fa parte anche quello. Siccome l'art bonus vale anche se doni 10 euro, io spero che cresca questo valore, insomma, di spingere in quella direzione. Quindi non soltanto le grandi imprese, ma anche i cittadini che valorizzano con piccole donazioni il contributo a far vivere il museo del loro territorio, che peraltro può portare un ritorno economico. Noi abbiamo cambiato le politiche tarifari dei musei l'anno scorso, col cambiamento di quelle politiche tarifari, secondo noi parliamo sempre dei nostri dati in cui siamo indietro come Paese, quando siamo avanti i giornali non li trovano interessanti. Quindi voi continuerete a vedere sui giornali, non c'è speranza, i 10 più grandi musei del mondo per numero di visitatori e si dice che non c'è nessun museo italiano. Io l'ho provato a dire ai giornalisti, non ci sarà mai nessun museo italiano, perché non c'è il grande museo nazionale come la National Gallery, il Louvre, con opere portate da tutto il paese, da tutto il mondo. Noi abbiamo questa forza straordinaria che è i musei legati al territorio, i 4.000 musei, e quindi anche gli uffizi sono al massimo della capienza e sono 12 volte più piccoli del Louvre, come si può fare questo confronto sul numero di visitatori. Però questo radicamento sul territorio può essere proprio la chiave per investire su questa riconoscibilità, riavvicinare i cittadini. Il cambiamento delle politiche tarifarie ha fatto sì che l'anno scorso nei soli musei dello Stato, e quindi il 10% dei musei italiani, ma nei soli musei dello Stato abbiamo superato la barriera dei 40 milioni di visitatori. Ci abbiamo fatto più dei 5 più grandi musei del mondo, i primi 5 di quella classifica, messi insieme. Ma questo è il modo in cui io posso confrontare l'Italia, perché l'Italia è fatta da una miriade di musei. Quindi ripeto, i soli musei dello Stato italiani hanno fatto più dei 5 più grandi musei del mondo, messi insieme. Questo perché abbiamo cambiato le politiche tarifari e abbiamo introdotto il pagamento per tutti, sopra i 25 anni, al di là dell'età, e abbiamo introdotto la prima domenica del mese gratuita che ha avuto questo risultato importante che non è nei numeri, perché sono aumentati i visitatori, aumentati i visitatori gratuiti e aumentati gli incassi. Tant'è vero che quasi tutti i comuni si stanno adeguando a questo modello di offerta tarifaria e di apertura, perché ha visto che funziona. Ma soprattutto hanno riportato i cittadini nei musei. Noi abbiamo questa abitudine, andiamo in una grande città, andiamo a visitare un museo, fa parte del nostro percorso di vacanza, di viaggio, magari non abbiamo mai visto il museo di fianco a casa. Il fatto che in gennaio e febbraio, cioè quando il turismo nelle città d'arte è al minimo, ci siano state nei soli musei dello Stato più di 300.000 persone, vuol dire che sono stati quasi tutti persone di quella città che sono andate a visitare il museo della loro città. E questo è il valore pedagogico, cioè riscoperta del patrimonio. Dobbiamo uscire da questo meccanismo un po' schizofrenico per cui ci vantiamo tutti di essere il paese al mondo che ha il più grande numero di monumenti, di patrimonio, di musei, anche con delle percentuali che vanno sempre inventate. E poi invece siamo in un paese in cui si va meno al cinema, si legge meno, si va meno al museo, si va meno al teatro. C'è qualche cosa che va ricostruito facendo un lavoro lungo nel tempo. I risultati come il direttore greco li vedrà il mio decimo successore, il ministro della cultura, è il lavoro più importante che va fatto. Magari speriamo di no, Dario. Quindi, peccato che per ora le grandi aziende siano ancora un po' pigre, speriamo che insomma si impegnino di più. Lorenza Bonacorsi, restando sulle risorse che servono, qualche altra idea, il PD ha qualcosa, lo studio, insomma... Io credo che la strada è quella giusta. La dicotomia pubblico-privato è un po' la stessa dicotomia tutela versus valorizzazione. Cioè noi siamo stati prigionieri all'interno di tutte queste contrapposizioni e dobbiamo liberarci anche da questa cosa che stiamo facendo. Ma questa, la contrapposizione pubblico-privato, è una contrapposizione fondamentale. Non riusciremo mai dal punto di vista pubblico a intervenire su tutto l'enorme patrimonio culturale e artistico che abbiamo nel nostro paese. È un'idea impossibile oramai, non funziona più, non ce la faremo mai. Allora, è davvero la strada che dobbiamo intraprendere. Forse, ecco, io mi sento di dire che dovremo mettere un po' più di energia come partito, e questo mi metto ovviamente in prima persona, nel riuscire a comunicare meglio e forse a far entrare di più nella cultura imprenditoriale italiana questa cosa del intervenire sul patrimonio culturale e artistico italiano. Perché? Perché è la nostra civiltà, è la nostra cultura, è il nostro paese ed è il nostro futuro. Quindi forse da questo punto di vista noi dobbiamo avere un po' più di coraggio. abbiamo fatto un percorso in questi mesi che è stato quello di, innanzitutto, far passare a provare la norma, renderla operativa e renderla operativa in tutto e per tutto. Ora, secondo me, dobbiamo riuscire a intraprendere una fase in cui ci mettiamo in prima persona a far passare di più questo tipo di intervento. Ecco, perché nel nostro paese non è diffuso, negli altri paesi appunto funziona in maniera diversa, da noi no. Quindi da questo punto di vista dobbiamo lavorare di più e meglio. Ho dimenticato una parte di risposta, quindi mi collego con la dolorezza. L'Art Bonus è stato approvato in una forma sperimentale, come anche l'Eco Bonus, la ristrutturazione di Rizie, cioè tre anni. I due anni sono già passati, perché uno era qualche mese, il 2014, e il terzo anno scendeva al 50%. Noi stiamo anche, abbiamo pronta tutta la promozione sul 65% e quindi è fondamentale che la legge di stabilità, il Parlamento, ci dia una mano per stabilizzarlo al 65% e quindi non avere più l'impressione che non sai se c'erano dopo. Quindi c'è una questione aperta, speriamo che la legge di stabilità la risolva in senso positivo. Dottor Greco, Torino se non sbaglio è una fondazione ed è uno dei pochissimi casi di cogestione tra pubblici e privati. Funziona? Può aiutare il sistema museale? Io ho parlato più volte del sistema Torino e molto spesso, per darvi ogni tanto come viene percepito il nostro paese. Quando sono diventato direttore del Museo Egizio di Torino ci fu una festa d'addio a Leiden e ben tre professori ordinari di Amsterdam vennero da me a dirmi ma lei è sicuro? Guardi che Torino è in Italia. E dico guardi sono anche io italiano e ho trovato a Torino, e lo ripeto a tutti i miei colleghi, un sistema davvero eccellente in cui il pubblico e privato davvero collaborano. Si è parlato prima di alcuni privati, ma io voglio citare le due grandi fondazioni bancarie di Torino, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT che hanno creduto ed investito 50 milioni di euro nel Museo Egizio. Il Museo Egizio, poi è bene anche dirlo, praticamente si autosussiste. Noi su un bilancio di circa 6 milioni di euro abbiamo 600 mila euro di fondo di dotazione che ci viene dato dal pubblico e dal privato, le due fondazioni bancarie, poi Comune, la provincia quando c'era, adesso speriamo Città Metropolitana e poi Regione. Quindi un museo che ha praticamente il 90% dei propri fondi che vengono autoguadagnati. Però il pubblico e il privato funziona, funziona e voglio ripartire a quello che dicevo all'inizio ovvero il centro, porre al centro la ricerca. Ponendo al centro la ricerca stiamo superando la dicotomia perché il CNR adesso vuole istituire un'unità di ricerca CNR con due ricercatori presso il Museo Egizio. Quindi è il pubblico che rientra in una fondazione privata semplicemente perché crede nel nostro progetto scientifico e il Presidente Nicolai si sta impegnando per attuare questa unità di ricerca presso di noi il prima possibile. E la ricerca secondo me, non dobbiamo dimenticarci, che può essere un fondo di attrazione di fondi importantissimo. Quando diciamo che il nostro paese e come giustamente diceva il Ministro ha un patrimonio che appartiene all'umanità e io guardo in quello che è il Museo Egizio, dico sempre che l'Italia ha l'onore e l'onere di custodire questa collezione che italiana non è, il fatto che abbiamo riaperto, che stiamo ponendo la ricerca al centro sta suscitando un interesse internazionale tale, per cui ho avuto ben cinque università straniere di grandissimo livello che mi hanno contattato per fare assieme domanda per Horizon 2020 e potremo portare nelle casse del museo qualche milione di euro per fare ricerca, per assumere dei giovani che facciano ricerche e al contempo quindi tutela e valorizzazione, perché quando faccio delle ricerche archeometriche sui miei oggetti e le innaggine diagnostiche poi so come manutenerli e al contempo ho dei contenuti nuovi da proporre al mio pubblico. Quindi davvero la ricerca e questo forse un po' nel nostro paese deve cambiare, si è sempre pensato che investire in ricerca sia spendere dei soldi, in realtà si possono avere dei ritorni molto importanti e so che il ministro si sta molto impegnando anche con una collaborazione con il MIUR e penso che questa sia davvero la strada per il futuro. Io vengo da un paese in Olanda in cui il ministero dei beni culturali e il ministero delle università erano unificati con un unico ministro e due sottosegretari, ma questo era fatto perché si riteneva che i beni culturali sia un asset fondamentale della ricerca, certo con dei siti archeologici e con i musei importanti come quelli che sono qui in Italia e poi questo alla fine ripaga. Un altro piccolo esempio che però ci ha stupiti, abbiamo voluto, rubando ulteriori notti al sonno, ho insistito moltissimo con i miei curatori, volevo aprire con un catalogo, un catalogo importante che costa 35 euro in un periodo di crisi e abbiamo subito ordinato 4.000 copie pensando che ci avrebbe riportato fino a dopo l'estate, perché peraltro il nostro bookshop non aveva quei numeri. Bene, il catalogo si è esaurito nel giro di un mese, abbiamo fatto a tempo a farlo solo in italiano per la restrizione dei tempi, addirittura ci sono gli stranieri che comunque lo comprano, quindi un volume importante sulla ricerca comunque viene comprato e comunque suscita di interesse, per cui io infatti in un nuovo piano strategico mi sto molto molto impegnando per riuscire a riportare dei soldi all'interno della ricerca. È quello che ha fatto il Ministro, dando uno statuto ai musei, rendendoli indipendenti dal punto di vista di bilancio, significa anche che i musei adesso finalmente potranno partecipare ai bandi internazionali Horizon 2020, a Cultural Heritage o addirittura IRC per portare dei soldi in Italia, mentre le soprintendenze non potevano farlo, perché le soprintendenze possono partecipare come un ente di supporto, però purtroppo non avevano la possibilità di introitare dei soldi, il che è davvero ridicolo, è davvero importantissimo insistere molto su quello. E poi sulla presenza del privato vorrei dire anche un'altra cosa, è importante che i privati investano, che investano dei soldi, ma molto spesso possono anche investire in know-how e risorse umane, ovvero quando vi sono delle grandi aziende italiane per esempio che penetrano i mercati, dei mercati lontani come possa essere la Cina e il Giappone, mercati in cui un'istituzione museale può essere interessata ad andare a portare una mostra, oppure investire o fare delle ricerche, molto spesso si possono seguire gli stessi canali, le imprese ci possono aiutare ad arrivare a degli interlocutori dove molto spesso coloro che lavorano solo in un museo non conoscono questi canali e non possono arrivarci. Questo che ha raccontato del catalogo esaurito è un bel segnale, non è il caso dei cataloghi però a volte si tende a snobbare magari il cosiddetto merchandising e invece è un volano molto molto forte. Un volano di conoscenza, un altro esempio, il Metropolitan Museum of Art New York ha questo sistema con i bitcoins per cui se uno si scarica l'application, visita il museo, viene automaticamente fissato ogni oggetto in cui il visitatore abbia trascorso più di due minuti. A fine visita uno sulla sua application può vedere Your Museum, quindi vengono mostrati tutti gli oggetti che uno ha visitato e per la maggior parte del quale si può fare una stampa 3D che te lo puoi fare direttamente nel bookshop e comunque è un modo, non è mero merchandising, è anche un modo per promuovere la propria collezione, fra l'altro c'è tutto uno studio alla base perché per riuscire a fare questo bisogna fare delle modellazioni 3D fatte con degli specialisti e permettendo peraltro poi, facendo dei modelli che a volte arrivano anche a un milione di gigabyte, permettendo anche agli studiosi che si trovano ai 5 capi del mondo di poter studiare un oggetto senza che l'oggetto debba necessariamente essere movimentato. Quindi è davvero anche questo uno dei settori in cui dovremo sviluppare e potenziarci. Io faccio un esempio, ho due delle mummie più importanti al mondo, la mummia di Ha, l'architetto Ha e di sua moglie Merit, per fortuna le mummie non furono sbendate quando sono arrivate a Torino, le mummie sono completamente ricoperte di gioielli, grazie alla nuova tecnologia e al city scan che abbiamo fatto riusciamo a fare adesso delle copie dei gioielli che hanno che hanno un valore in primis di conoscenza e poi ognuno può avere l'opportunità di portarsi a casa un oggetto del museo egizio che gli permetta magari di mostrarlo a qualcuno che vedrà e che gli faccia tornare la voglia di tornare in un museo che si rinnova sempre. Ecco, questo è un altro asset su cui dovremmo impegnarci un po' di più che è quello di provare a introdurre un po' di più le nuove tecnologie nei nostri musei. Consideriamo che ad esempio il Louvre fa solo di visitatori virtuali 14 milioni di visitatori, quindi sono dei numeri che purtroppo i nostri siti dei musei che sono diciamo abbastanza ancora primordiali, uso un termine anche volutamente insomma un po' forte ma è così rispetto a delle invece tecnologie già introdotte negli altri grandi musei, ecco su quello noi dobbiamo correre di più e sicuramente io di questo sono convinta e credo che sia davvero uno dei temi su cui dobbiamo investire più e grazie diciamo ai nuovi 20 direttori famosi su quello ci saranno delle differenze perché perché un po' il discorso che faceva prima il ministro ehm il funzionario del ministero ma culturalmente non è preparato e comunque non è formato a eh utilizzare le nuove tecnologie. Io mi ricordo che ho fatto un un incontro ehm proprio a a Torino qualche tempo fa e mi raccontavano degli operatori privati che eh cercavano di interloquire parliamo di due o tre anni fa eh con dei funzionari del del comune in quel caso parlandogli di crowdfunding appunto e lì non non si capiva neanche qual era lo strumento allora da questo punto di vista dobbiamo eh insomma crescere un po' di più. Io vorrei fare un giro di opinioni su un tema che l'abbiamo lasciato per ultimo ma è fondamentale ed è quello che sta succedendo in Siria e da quelle parti lì. Oggi l'ultima notizia poi parzialmente smentita era la distruzione di un altro tempio il tempio di Bel che l'Is lo Stato Islamico ha minato però in realtà appare che sia stato danneggiato ma non è un tempio enorme non non distrutto però insomma una settimana fa c'era quello di di Bal Shamin c'è stata la barbara uccisione dell'archeologo responsabile del del sito ehm quello che sta facendo lo Stato Islamico è replicare la la guerra al terrore che fa con con i video contro gli esseri umani eh con il patrimonio artistico fa dei video fa vedere quello che l'umanità perde quello che loro distruggono però poi di nascosto vendono i reperti sul mercato nero per finanziarsi quindi eh in modo molto spregiudicato a me verrebbe da da pensare quasi che è una guerra persa che che qualsiasi cosa diciamo non non avrà esito però ecco vorrei vorrei sapere vorrei spero che che voi mi diciate che mi sbaglio ecco ma noi dobbiamo avere la consapevolezza che questo tema cioè la distruzione del patrimonio culturale purtroppo sarà un tema del come lo vediamo delle cronache ma è un tema destinato a durare nel tempo eh uno dei temi con cui confrontarsi in questo in questo decennio sicuramente forse un tempo più lungo abbiamo vissuto delle stagioni in cui il patrimonio dell'umanità patrimonio culturale veniva distrutto durante le guerre casualmente bombardamenti anche Pompei è stato oggetto di due bombardamenti alleati conosciuti sono rimasti abbastanza sconosciuti ma insomma veniva distrutto il patrimonio durante durante le guerre adesso viene distrutto intenzionalmente quello che abbiamo visto Palmira e che abbiamo visto in altre parti della Siria o del mondo viene distrutto quel bene proprio non casualmente ma viene distrutto perché rappresenta una cultura diversa una religione diversa è simbolo di quella storia di quella tradizione e quindi lo distrugge intenzionalmente e utilizzi media per amplificare gli effetti di quella distruzione con un paradosso anche che ormai è abbastanza accertato filmo quello che distruggo abbatto le statue eccetera e contemporaneamente quello che non distruggo lo vendo sul mercato illegale per finanziare il terrorismo e quindi c'è la comunità internazionale che sta cominciando a ragionare su come fronteggiare questo sistema anche del trafugamento illecito per finanziare il terrorismo. L'Italia su questa è partita prima degli altri abbiamo fatto una proposta formale all'UNESCO e alle Nazioni Unite riassunta giornalisticamente nel tema caschi blu della cultura cioè se la comunità internazionale è in grado di attivarsi o dovrebbe attivarsi o comunque ha delle regole che prevedono l'attivazione per intervenire in caso di conflitto dovrebbe ugualmente sapere intervenire anche preventivamente per tutelare quel patrimonio che rischia di essere distrutto non soltanto a posteriori denunciare o lamentarsi in una situazione di impotenza. La proposta ha fatto strada, la proposta italiana è andata avanti, è stato approvato un documento dall'UNESCO nel corso mese di aprile, se ne è discusso in sede di Nazioni Unite, tornerà nel Consiglio nell'Assemblea dell'UNESCO la proposta adesso in ottobre e novembre, abbiamo fatto l'incontro qui a Milano degli 83 Ministri della Cultura, la prima volta che sono riuniti su iniziativa italiana Ministri della Cultura di paesi così lontani, diversi tra di loro e vi garantisco che è stato due giorni emozionanti vedere Ministri della Cultura di paesi anche contrapposti però accettare di discutere su un terreno comune cioè la tutela del patrimonio dell'umanità appunto e la spinta di quella conferenza internazionale è stata tutta nel senso la comunità internazionale, UNESCO e Nazioni Unite devono dotarsi di forme di intervento per proteggere il patrimonio, io penso che questo sia un dovere fondamentale della comunità internazionale perché se è patrimonio dell'umanità è la comunità internazionale che deve mobilitarsi per difenderle e tutelarle. Infatti non è un caso rispetto a quello che dicevamo prima che la conferenza sulla tutela del patrimonio mondiale si sia fatta in Italia che è il simbolo, come dicevamo prima, è il paese che ha più conoscenze, in cui è più radicato il principio dal res populi romani del diritto romano appunto. Quella dell'iconoclastia di fatto è una guerra sempre contro i simboli, le immagini di quello che si vuole distruggere. Io credo che in questo caso sia davvero uno scontro di civiltà, cioè un attacco alla nostra civiltà e credo che lo dobbiamo assumere nella sua interezza, nella sua brutalità e nella sua aggressione verso appunto un attacco alla nostra civiltà. È un attacco, uno scontro di civiltà e quindi credo che è bene che la comunità internazionale prenda provvedimenti anche appunto come i caschi blu della cultura, come appunto giornalisticamente sono stati definiti. Però è di fatto, credo che dobbiamo capirne davvero l'importanza e la mostruosità enorme di questa azione. Un'iconoclastia nel 2015 è di fatto un attacco alla civiltà, uno scontro di civiltà e credo che l'Europa in primis che è davvero la culla, il cuore di tutto questo deve reagire e benissimo ha fatto il governo a Milano con la riunione di tutti i ministri della cultura. Credo che dobbiamo andare in quella direzione. Io vorrei partire da un ricordo di Khal al-Assad che ho avuto la fortuna di conoscere perché ho iniziato la mia carriera scavando nella gesira siriana, tra l'altro facendo proprio alloggiando a Raqqa che adesso è la capitale del califato cosiddetto, di Daesh. Perché partire da Khaled, perché secondo me è uno degli esempi di come si può amare il proprio paese, la propria cultura e di come si è disposti a difenderla con le estreme conseguenze che lui ha avuto. Come diceva il ministro è assolutamente importante partire in maniera preventiva. Io da egittologo dico sempre, ricordiamoci che l'Egitto è assediato a est a ovest da possibili attacchi di Daesh. Ci sono tantissimi colleghi che lavorano sul territorio e che lavorano davvero come degli eroi. La cosa fondamentale vorrei che a livello internazionale partisse, partisse forse dall'Italia una controoffensiva delle istituzioni culturali per rendere consapevole le persone che questa cultura appartiene a loro. Pensate il processo che si è verificato in Italia, che dalla riscoperta del Pompei nel 1748, quando comunque era tutto in mano ai nord europei, la consapevolezza che gli italiani pian piano hanno assunto del fatto che l'antica Roma faccia parte del nostro DNA, di cui siamo profondamente fieri. Questo processo purtroppo è solo in fieri in moltissimi paesi, penso all'Egitto, dove non tutte le scuole si studia l'antichità faraonica e in questo bisogna intervenire. L'archeologia diventa sostenibile solo se passa da un sistema postcoloniale, perché non dobbiamo nasconderci dietro un dito. Il colonialismo ha cominciato gli scavi in quel paese, in quei paesi le rivoluzioni avvenute negli anni 50 e 60 hanno poi portato ad avere italiani, inglesi, francesi e tedeschi che lavoravano in questi paesi, con gli egiziani ad esempio, parlo dell'Egitto, sempre al margine. Tuttora le pubblicazioni vengono fatte nelle lingue europee e non in arabo, cosa che invece bisogna assolutamente contrastare. È la palissiano che un archeologo classico impari l'italiano e impari il greco moderno, non lo è così che un archeologo del vicino oriente impari l'arabo, sia in grado di parlare in arabo, sia in grado di pubblicare in arabo. Secondo me la controoffensiva culturale deve essere quella, rendere conto a queste popolazioni che il patrimonio culturale che hanno è parte della loro identità e parte della loro ricchezza e renderli sempre più consapevoli. Piccoli esperimenti si stanno facendo, il British Museum si sta molto attivando, pubblicando tutti i loro scavi ad esempio in arabo e mi diceva il keeper della sezione egizia che quest'anno tornando allo scavo trovava le persone del villaggio che leggevano lo scavo, persone che a malapena possono leggere ma che erano interessati perché erano nella loro lingua. Io a Torino ho riusciziato a fare una cosa che sta avendo un eco incredibile perché non dimentichiamoci che le nostre città stanno cambiando, lo vediamo tutti i giorni nelle croniche, non dimentichiamoci ad esempio che a Torino c'è una grandissima immigrazione che proviene dall'Africa. Quando abbiamo fatto il riallestimento, seguendo il suggerimento che mi ha fatto il mio capo comunicazione e marketing Paola Matossi abbiamo deciso di avere tutti i testi di sala in arabo. È una piccola cosa, ma questo sta avendo un effetto incredibile. La popolazione immigrata che comincia a venire da noi in museo sta crescendo sempre di più, vedo sempre più donne velate in sala che portano i loro figli a vedere questa collezione, che ne sono fieri, che portano coloro che vengono in visita loro a vedere questo. Se riusciamo a livello culturale, è un investimento sul lungo raggio, ma ritengo che l'Occidente assieme a tutto il Medio Oriente dove comunque c'è tantissima popolazione, è Khaled era uno di questi, che combattono giorno per giorno per mantenere il loro patrimonio. Facciamo una controoffessiva culturale, facciamo in modo che la popolazione si renda conto che non distruggono qualcosa che appartiene ad altri, non distruggono qualcosa che appartiene all'Occidente coloniale, ma distruggono il loro passato e che senza passato non si può costruire il futuro. Se partiamo da qui penso che abbiamo una possibilità di farcela. Bene, grazie. Io credo che abbiamo finito anche con il tempo. C'è spazio giusto per una domanda al Ministro su quest'estate che è stata un'estate molto migliore delle altre dal punto di vista del turismo per l'Italia, con le spiagge piene anche perché ha fatto molto caldo e con però anche numeri positivi nei musei. Noi siamo abituati alla ripresina, c'è la ripresina anche nel turismo. Quindi un paio di cose che le vengono in mente perché questa, insomma, l'estate prossima sia ancora meglio. Non del governo, un paio di cose del sistema Italia, non so, dalle prenotazioni alberghiere che fanno le grandi agenzie ai prezzi. I dati naturalmente li abbiamo già visti durante quest'estate, lo si è registrato in modo diffuso su tutto il territorio nazionale, mentre è continuato a crescere il turismo internazionale, che è cresciuto anche negli anni della crisi, quando era invece scomparso il turismo interno, è tornato a crescere il turismo interno, sia il turismo balneare o nelle località di bellezza naturale, di montagne, laghi, ma anche il turismo culturale nelle città d'arte. Ed è davvero quello a cui dobbiamo prepararci, perché anche qui parliamo sempre delle nostre classifiche, guardando se siamo il quinto paese, perché eravamo il primo negli anni 70, ma la posizione in classifica interessa poco, perché è evidente che crescerà sempre di più il numero di paesi che entrano come paesi ospitanti nel mondo del turismo globale, quindi la competizione sarà sempre più forte. Ma c'è un dato, certo, l'Italia è la meta desiderata di viaggio prima in tutti i tipi di turismi nazionali, dai turismi nuovi, come quello cinese, quell'indiano, ai turismi più tradizionali, più storici. Dove vuoi andare? La risposta è Italia. Poi non vengono per molte ragioni, per i trasporti, per l'ospitalità, perché c'è un'immagine, ormai in un turismo che è sempre più anziano, guardano due cose, sicurezza e salute, sistema sanitario. Alcune parti del nostro territorio nazionale non è che ti danno queste immagini così attrattive, quindi magari uno decide di andare da un'altra parte. Ma noi abbiamo delle potenzialità di crescita. Quest'estate sono aumentate le presenze negli alberghi, sono aumentate le presenze nei musei, sono aumentate le presenze turistiche in tutte le località, i numeri usciranno fra qualche giorno, e in modo molto forte. Tant'è vero che noi dobbiamo porci il problema opposto, per questo dico un po' di ottimismo. Noi dobbiamo immaginare come gestire in modo intelligente una crescita certa del turismo internazionale nel nostro paese. Perché se solo i cinesi, secondo le previsioni del governo cinese, fra quattro anni saranno 500 milioni i cinesi che usciranno una volta all'anno dal loro paese, o per turismo o per affari, è evidente che quello è solo la Cina, poi ci sono altri grandi paesi. La crescita è sicura. Noi dobbiamo gestire questa positiva crescita in modo intelligente. Cioè il turismo culturale è un turismo anche fragile, di contesto. Non è immaginabile che tutti i turisti che vengano in Italia debbano andare tutti, ripeto, a fare da San Marco alla Piazzale Roma, o a vedersi gli uffizi Pontevecchio, o a vedersi il Colosseo, il Pantheon e la Fontana di Trevi. Non ce la fanno quei luoghi a sostenere questo impatto. Tant'è vero che se guardate i giornali si parla addirittura di cose abbastanza strane, come il ticket d'ingresso in una città, è un po' difficile avere il ticket d'ingresso. Ma insomma, noi dobbiamo uscire da questo paradosso. La concentrazione in alcuni luoghi italiani è bellezza, sconfinate, fantastiche, diffuse su tutti i territori nazionali in cui non vanno turisti. Addirittura a Roma, o di Colorenza, e ho guardato i dati, la gente non va alle Termini di Ocleziano, posto meraviglioso, perché dicono è decentrato, è davanti alla stazione Termini, ci passano 10 milioni di persone l'anno, è decentrato perché vanno tutti a vedere il Pantheon e il Colosseo. Allora è evidente che questa è la grande cosa che noi dobbiamo fare. E faremo una conferenza internazionale, una conferenza sul turismo sostenibile 1, 2, 3 ottobre a Pietrarsa. Abbiamo delle potenzialità enormi diffuse sul territorio. L'Italia non è soltanto quella dei musei, noi abbiamo, per esempio, stiamo lavorando sui cammini, avete in mente tutto, cosa è Santiago di Compostela. Poi è arrivato anche il giubileo, quindi ha rafforzato questo progetto. Abbiamo un patrimonio enorme di cammini, di percorsi che possono essere percorsi ciclabili, percorsi come la Francigena, che hanno anche radici molto antiche. Stiamo lavorando sulle linee ferroviarie abbandonate, treni turistici hanno delle potenzialità incredibili. Ci sono 800 chilometri di linee ferroviarie in Italia ancora esistenti in cui non passano più i treni, attraversano paesaggi straordinari. Stiamo lavorando sui borghi, sugli hotel diffusi che è un modo di valorizzare. In Italia ci sono mille borghi abbandonati che possono diventare, come in parte sono già diventati, degli straordinari hotel diffusi. C'è una forma di ospitalità unica, italiana, esperienziale. Insomma, questa è la grande sfida che dobbiamo fare. Naturalmente servono risorse, serve far sistema, ma serve anche crederci e mi pare che quest'estate abbia dato un grosso contributo per dimostrare che se il Paese investe in cultura e turismo arriva anche un grande contributo da questo alla crescita economica. Bene, io ringrazio i nostri ospiti e grazie anche a voi per averci ascoltato.